Amici di Primo Canale, bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì quando ritroveremo sulla Liguria un campo di alta pressione ad assicurare i cieli sereni o poco mulosi, una bella giornata soleggiata, anche i venti via via in attenuazione. Nel dettaglio possiamo notare su Imperiese cieli sereni o poco mulosi, tempo soleggiato anche sulle zone di mare, un po' freddo di notte, massime invece fino a 15-16 gradi a Imperia. Per quanto riguarda Savonese, situazione medesima all'Imperiese, quindi una bella giornata soleggiata. Provincia di Genova, sole protagonista, cieli sereni o poco mulosi, i venti anche qui in attenuazione, mari prevalenza da mossi o poco mossi. Tiguglio, una giornata soleggiata con un po' freddo di notte, massime del pomeriggio invece, che usciranno attorno ai 16-17 gradi. E poi uno sguardo allo spezzino, una giornata che vedrà in rinforzo della alta pressione, ampia apertura del cielo, quindi tutto tranquillo con venti in attenuazione. Nel corso di mercoledì l'anticiclone sarà disturbato da infiltrazioni di aria più umida in quota, quindi inizialmente bel tempo, un po' di sole, poi le nuvole in aumento dal pomeriggio e proprio in serata, oltre alle nuvole, ritornerà qualche goccia di pioggia sui settori centro-orientali della regione. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.